Buon pomeriggio e benvenuti al nostro saggio di musica. Vi mostreremo dei piccoli esempi di quello che abbiamo fatto quest'anno. Durante l'ora di pratica instrumentale. Abbiamo imparato a conoscere molti strumenti musicali. Piccole progressioni, il metalloferno, l'accelofano, la tastiera, la chitarra e il film alfa. Vi mostreremo delle strumenti musicali. Abbiamo la progressione, la spiega, il telefono, il keyboard, il ritardo e il giugare con l'alfa. Buon ascolto! Vi faccio! Ascolterete una melodia britannica. Intitolata 1. Vi ricorre un monto ai africani scismi. Vi faccio! Vi faccio! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.